Un pareggio di prestigio è che ha rallentato la corsa solitaria in vetta della Gimini Cascordia. A conti fatti, il città di Belpasso ha convinto sabato all'Ununcio Marino. Certo, un 2-2 non è una vittoria e i pareggi di fila sotto la gestione tecnica di Angelo Spina sono adesso tre, proprio in corrispondenza della chiamata in panchina del nuovo allenatore. Però che qualcosa stia cambiando in positivo si vede e allora non resta che mettere a frutto il lavoro della nuova gestione per uscire nell'immediato da una classifica probabilmente non preventivata alla vigilia di questa stagione. Lo Scordia, non a caso primo del girone E, è che annovera tra le fila. Gente del calibro di Pandolfo, Zumbo, Cali, Strano, Romano, Anastasi, Favare e Sottile. Quest'ultimo in gol al 14esimo con la Rosa, non esente da colpe. Si è inchinato alla reazione immediata del CDB che al 31esimo, suo angolo di Mondello, ha subito messo le cose in chiaro con Marco Piana. Un gol di piena iniezione di fiducia e che ha lanciato forti segnali di predominio territoriale in un vorticoso finale di primo tempo, tutto sponda biancazzurra. Al 35esimo la traversa di Peppe Longo, sinistro straribante su assist di Mondello. E gol legittimo dell'attaccante di casa al 38esimo, deliziosamente architettato dallo stesso con questo stop a metà campo e questa apertura per Cunzolo con annesso cross da destra, finalizzato sul secondo palo. Belpassesi su di giri, scordia in down totale, con tante grazie all'arbitro contraffatto di Catania, piazzato a meno di due metri e senza ostacoli alla visuale, quando Piana viene platelmente steso da Strano. Niente rigore, solo 2-1 CDB e al cambio campo, altra protesta qui forse meno evidente della precedente ma concreta, a causa di questa fermata ai danni di Cunzolo, lanciatissimo a rete. Al quarto d'ora è l'Oppresti a cercare Longo, ma la lucidità lì davanti non è quella del primo tempo. La gimnica alla prima offensiva risponde e non fa sconti, ma i padroni di casa si dimenticano di Michalizia a 2.30. Troppo facile di testa spedirla in rete, per questo sabato niente, sogni di gloria biancazzurri. Un'altra tentata sorpresa di Sottile a 10 dalla fine per lo Scordia, che per il resto costruisce mezze occasioni. Il Città di Belpasso si difende con giudizio, ma rischia tantissimo quando Filistad alla Rosa battuto, coglie la traversa e in questo caso è la fortuna che sorride ai padroni di casa, che da parte loro si svegliano e nei minuti finali lasciano da parte ogni dislivello di classifiche e di mentalità. E con Consoli, il nuovo entrato Borzì, in campo per Aureliano, quindi Lopresti e alla fine Cunzolo vanno vicini al nuovo vantaggio. Sulla cattiveria sottoporta dovrà ancora lavorare Spina per vincere certe partite. E stesso discorso vale quando questa giocata piana Cordella, altro subentrato come Chisera e al posto di Lopresti e Bella Vista al posto di Cunzolo nel finale, si vanifica tra le maglie difensive di uno Scordia, in fondo costretto ad accontentarsi per l'atteggiamento di un combattivo città di Belpasso che riparte adesso dai 21 punti in 18 giornate per affrontare nell'ordine 8 battaglie a cominciare dalla Tremestierese, domenica a San Gregorio.